Presidente, novità sul fronte rifacimento e razionalizzazione del sistema idrico integrato in 16 comuni della provincia di Agrigento? In un momento di grande difficoltà psicologica del Presidente Lombardo per le note vicente, ieri mi soggiunge una sua telefonata per avvisarmi che la Giunta aveva approvato questa importante possibilità della provincia di Agrigento, e cioè l'approvazione dei progetti della rete idrica in ben 16 comuni dell'Agrigentino, per una spesa di 64 milioni di euro più quella che uguale al 30% della ditta privata, per cui significa che il risultato che abbiamo portato grazie al lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione del lato idrico e soprattutto dai tecnici, dagli ingegneri che già nel febbraio del 2009 si erano adoperati per portare a termine questo obiettivo che cancella almeno 50 anni di difficoltà, cancellerebbe 50 anni di difficoltà che la gente della provincia ha subito per la mancanza di erogazione dell'acqua. Quando si parla di sistema idrico integrato parliamo anche di fognature, di depurazione, tutto il resto si avvicina alla stagione estiva e tanti abitanti di San Leone per esempio lamentano, però sono preoccupati per quello che si possa ripetersi come ogni anno, c'è quel mare inquinato, lato idrico, su questo fronte cosa ci può dire, cosa si sta muovendo, si sta facendo qualcosa o no? Ci sono pure in gioco altri milioni di euro proprio per i depuratori, Agrigento sta risolvendo la questione che la vede in contrapposizione al villaggio Peruzzo, noi abbiamo fatto in modo che venisse anche questa opera progettata, sappiamo che ci saranno circa 90 milioni di euro e anche lì crediamo che Lompardo riuscirà a svincolarci queste somme. E' chiaro che stiamo intervenendo ed è chiaro che il problema di San Leone che se ne parla così come quanto inizia la saga del Mantolo in Fiore se ne parla a febbraio, d'estate incominciamo a parlare di depuratore delle acque che vengono inquinate, se si pensasse sempre prima forse faremmo un servizio alla utenza e faremmo meno chiacchiere noi politici che di chiacchiere, ne siamo laureati e addirittura ci potremmo chiamare magnifici rettori della politica.